prediction di oggi fan plus phoenix dan wonkia è la partita che oggi dovrò guardare al posto di cucinarmi quindi spero che regalino lo stesso spettacolo dell'altra voce ma sei da wonkia giocano come prima da un wonkia assolutamente non non ci piove e te lo dico da lpl fanboy quindi questo mi sta facendo veramente tanto tanto ma cose giuste da un mi stompano di nuovo di macro e non farò niente gli auto andrea gli ho messi prima al picam li ho messi nella sfera di cristallo questo e da un secondo me fanno 60 va bene allora io dico fan plus phoenix lorenzo cloud nine rog rog revivage no sì 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 perché 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 sì perché non lo so non mi ispirano i rog amici io dico la verità non mi ispirano ve lo devo dire scusate scusate scusa ma non mi ispirano non mi ispirano pazziati io ho molta paura di questo game ovviamente molta paura perché ho paura di rog sotto pressione ho paura dei cloud nine con perche se sbagliano se sbagliano questa è praticamente quasi flotta dillo vischio però io sono euforia believer e quindi dico rog bravo vischio e dico rog anch'io dico rog anch'io va bene va bene facci la pecora al nero va bene giusto giuro una volta ciascuno lorenzo fan plus phoenix cloud nine va beh te lo devo veramente dire cloud nine bravissimo andiamo avanti fan plus phoenix ovviamente vabbè qua dico fan plus phoenix pure io a quel punto i cloud nine sono automaticamente fuori dal girone se perdono contro i rog sì e allora fan plus phoenix per forza lorenzo rog dk dk revivage andrea rog vabbè lo sapevo lo sapevo guarda se se vincono i rog vengo a roma e ah l'ha detto l'ha detto segnatelo se vincono i rog vengono i rog vengono tu vieni qua un bacio a te mattia vabbè allora di che io dico di che io dico di che lorenzo rog fan plus phoenix si ragazzi fan plus le felici le felici le felici le felici andrea e per me i rog ci credono fino a quale fan plus phoenix li bastonano purtroppo io dico rog perché dobbiamo crederci nella qualificazione e quindi devono è questa la partita che dire che decide che vanno a vincere lorenzo di che grondine di che le vi legge di che fa un boi di che dai andrea vinceranno di che ma sarà partita meravigliosa 40 40 minuto 30 vincono allora siccome l'ultima partita del girone tutto sarà deciso ovviamente quando è che ne va a vincere qualcosa quando non conta assolutamente niente quindi vincerà i club night